Pianluigi Carta, si parte in Serie A con lei che ha tra le sue mani un settore giovanile che è riuscito a creare davvero molto bene tanti giovani che sono usciti dal vivaio in questa Serie B utilizzati dal tecnico Ranieri. Ma direi che la sensazione è tanta, al di là della vittoria di essere salita in Serie A, indubbiamente come dici tu, aver provato tanti ragazzi in settore giovanile è motivo d'orgoglio. Questo non l'ho fatto solo io ma l'ho fatto con la collaborazione di tante figure come Bardo Merreo, Scherriu, Daniele Conti l'anno scorso e tante altre figure che ci hanno collaborato a questo successo. E poi è una parte fondamentale, speriamo che questo è l'inizio di un cammino, portando i giovani dal basso verso la prima squadra. Bonato ha parlato di programmazione con Ranieri, di fatto è confermatissimo. Quali sono i giovani interessanti sulla quale farà riflettere il mister Ranieri durante la preparazione atletica? Sicuramente rientra De Zogus dal Pescara. Questo sì, poi si vedrà. Adesso penso sempre maturo con la Serie A capire quali saranno in rosa e quali potranno rimanere per la prossima stagione. Indubialmente abbiamo un vivaio che è ricco di talenti, quest'anno abbiamo fatto un campionato assolutamente di livello in primavera, lanciando tanto il 2005-2006 che vedremo in futuro sicuramente. Quando non lo so, ma sicuramente abbiamo giocato di grande potenziale. Grazie. Grazie.